Oggi siamo a Trignano, piccola frazione di Isola del Gran Sasso. Qual è il problema nel trasformare quest'area in un'area verde? Abbiamo questo problema dal 2009, dal famoso terremoto dell'Aquila, con l'aggravio del 2016, il terremoto 2016. Questa ormai è una struttura che è diventata pericolante, è l'unica struttura adibita anche a parchetto pubblico con i giochi attrezzati per i bambini. Pare che c'erano delle somme di circa 300 mila euro, una scheda sose di 300 mila euro, quindi una richiesta di 300 mila euro, ma pare che queste somme, nell'ultimo consiglio, il sindaco abbia segnalato una mancanza appunto di queste somme o comunque, destinati in altre aree, pare Monte Brancastello in località San Pietro. Per fare cosa? Per mettere a posto un rifugio, un capannone o comunque un fienile. E questo non vi sta bene? E questo non ci sta bene perché vorremmo capire nell'elenco delle priorità e della sicurezza Trignano dove è andata a finire. Altre criticità? Abbiamo la chiesa madre, ferma dal 2016, messa in sicurezza. Proprio ieri sera ho parlato con il parroco che mi spingeva a segnalare il problema. Abbiamo il problema della strada bypass che serve assolutamente per le case a valle che non possono permettersi di ricevere materiale con i mezzi più pesanti. Abbiamo la chiesetta di San Michele in località Frisoni che è completamente decadente. E abbiamo il campetto comunale che ormai non è più un campetto. Cos'è? E' diventato un bosco dove nascono i funghi, sede di serpenti, vipere, un campetto tra l'altro fatto molto bene e molto recentemente perché ha una quindicina d'anni. Ed ha bisogno solo di manutenzione? Ha bisogno solo di manutenzione, è stato presentato un preventivo di 7-8 mila euro che è rimasto sul tavolo dell'amministrazione. Vorremmo capire insomma perché anche qui dove è andata a finire Trignano nell'elenco delle priorità.